buongiorno a tutti amici hola a tutti gli amici di Conoscendo Italia qui siamo con la nostra amica in diretta mondiale di Saragena e amici oggi faremo una diretta particolare perché vi mostrò come si fa uno dei vini più antichi dell'Italia che si chiama il Moscato di Saragena qui sto con le signori che stanno preparando come potete vedere questa è quella la parte dove se selecciona la vigna la grattura di uva, il dolce il più seco e il più fresco e qui sta il Moscato ora vi mostrò qui c'è un mese, questo è quando lo trovaron nella vigna questo è il più fresco, come potete vedere e questo è il più secco e questo è il Moscato e qui? ora lo voglio mostrare tutto il processo mio amici è super bello, oggi siamo in Saragena e guardate qui abbiamo alcuni amici siamo in Cantina Viola in Saragena e stiamo facendo il Moscato di Saragena guardate qui ci sono preparando le gratture abbiamo le gratture e le gratture e stiamo facendo il Moscato il Moscato di Saragena il Moscato di Saragena con Slow Food e guardate che lindo amici molte grazie a Pepe Jimenez per 200 stelle a Lulu Noriega per 100 stelle molte grazie grazie che bello che bello guardate qui qui il nostro marco di Conociendo Italia con il Moscato amici siamo in uno un poboletto super super lindo ora lo voglio mostrare poi però prima voglio mostrare come è la produzione del Moscato qui sono le signore come potete vedere le signore le signore le signore le signore le signore e qui la altra signore e stanno preparando il Moscato amici comparten comparten perché sta super lindo le voglio mostrare come facendo il Moscato e poi andiamo a dare una volta in questo poboletto che si chiama Saragena è un poboletto molto molto antico il centro storico che sta super lindo e lo vamo a camminare juntos share my friends perché stiamo live da Saragena stiamo facendo il Moscato con le donne qui e molto pronto vi mostrerò la città di Saragena che è super 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 buona qui è dove ci sono la più fresca e la più seca poi si sono spettate qui e questo è come lo facendo con la mano lo triturano con la mano bien hecho triturato miren questo è un metodo molto molto antico già nel 1500 nel 1500 si parlava di questo vino nel libro del Vaticano quindi è un vino molto antico che si produce in questa terra in Saragena in Saragena da più di 500 anni miren dopo che la triturano la mettano qui e poi questo che è il Moscato lo mettano con altri due tipi di uva che ora se lo sto mostrando ciao Selly siamo in Saragena qui in Calabria siamo nel nord della Calabria Saragena un pueblo antico dove producono questo vino il Moscato di Saragena siamo in la Cantina Viola poi vi mostrano le mostrano le bottiglie come sono e qui la Cantina Viola è una delle cantine che produce questo vino mire che lindo qui sono le signore che bello amici super lindo come dolce Claudia e grazie per le 100 estrellas comparten amigos perché questo è un vino super antico che producono qui in Italia in Calabria in Calabria il Moscato di Saragena qui lo producono qui ha la uva e questa uva se va secando per un mes e e dopo un mes amici la van a la signora dice qui è qui qui è il duello della cantina viola che ci va mostrando e ci ha chiesto qui. Miren, amici, qui siamo nel centro del Pueblo di Saracena. È il Pueblo di Saracena. E poi faremo una volta super linda nel centro storico. E qui è dove lo producono, amici. In questa casa con un metodo molto, molto antico. Amici amici, questo è super bello, super tipico. Questo è la reale tradizione italiana per il vino. Questo è l'unico vino prodotto con questa tecnologia. Qui ci sono due tipi di gravi. L'uno è Malvasia e l'altro è Warnaccia. Sono vini bianchi, vini bianchi, che bollano in questo contenere. E poi, quando sono pronti, vanno dentro. E saranno mixati con il moscato. E guarda, fanno produzione molto piccola. 1700 bottiglie, più o meno. Il moscato fa circa 4000 bottiglie. Il moscato fanno circa 4000 bottiglie per anno. E guarda, questo è quando iniziano. Posso vedere? Questo è quando iniziano, miei amici, questo è quando iniziano il passaggio. E dopo alcune ore... Quante ore? A seconda della gradazione iniziale, ma molte ore. Dopo molte ore, questo è quello che resta. Da 5-6 fino anche a 10-12. Amici, qui sta 5-6 ore hirvendo. E poi si concentra fino a questa quantità. E questi sono due tipi di uva. Qui sono la guarnaccia e la malvaccia. E poi questo mosto hirvido si va a mixare con il moscato. Que lindo, amici. E' quello che mi piace di Italia. E quello che mi piace di fare con voi, amici. Mostrare tutta la bellezza di Italia. Le cose típiche. Le cose típiche. Le cose típiche. E la cosa che nos differenze in tutto il mondo. Super bello. Grazie a Matteo per le 100 ore hirvendo. Il mio amico anche con noi. Sempre con noi. Questo è quello che resta per le 100 ore hirvendo. E con questo, a volte, producono anche la grappa. Grazie a Micheline per le 100 ore hirvendo. E guardate, questa è la cantina. La cantina viola è una delle più vecchie winerie qui in Saracena. E qui, i miei amici, sono le ragazze. Questa è tutta la tradizione che hanno fatto da 600 anni con la stessa tecnologia. dopo che è stato conosciuto. A chi si entra? E' uno dei vini dolci più premiati in Italia. Questo è il vino dolci più pesante. Questo è il vino dolci più pesante. Come sai, è un'organizzazione che ora è in un mondo. e si scelta il vino dolci più pesante. E si scelta il vino dolci più tradizionali in tutta l'Italia. Penso anche in tutta l'Italia. e guardate, questo è il moscato, il vino dolci più pesante. Questo è per il vino dolci più pesante. E qui ho una storia. Tambien quando questa signora era una niña Lo que hacían era sacar una a una la uva Desde la rama E contaban mi ama o non mi ama Mi ama o non mi ama Mi ama o non mi ama E al final Iban a vedere se quedarono o non con il amor Ese è come passava nel tempo Amigos, qui in Saracena Quando hacían il vino Mi ama o non mi ama Dicen E qui, amici, sono le bottiglie Ese è il moscato Pasito moscato di Saracena E poi anche producono il vino rollo Cantina Viola Rosso Viola E Bianco Margherita Che è il vino blanco E questo è il moscato Amigos, questo è un vino super, super antico Lo van a encontrar anche al exterior Perché esportano in California E questo è il vino Cantina Viola, 14 gradi Super buono E qui, amici, è il simbolo di Slow Food Questo, amici, è Slow Food Il simbolo che identifica La appartenenza a questa asociazione Che si chiama Slow Food Amigos, dìganme Se conosciano questo vino Se conosciano questo paese Di Saracena Qui in Calabria E ora preparate Perché vediamo anche il centro storico Di Saracena Perché è super, super lino E questo è il moscato Molte, molte, molte Grazie, amici, a queste signore Che stanno lavorando Qui, qui sono le 3 di la tarda E ci hanno esperato Per fare la diretta Miren Che tradizione, amici Che tradizione, amici Che tradizione, amici Allora Che tradizione, amici mire che lindo, il moscato di Saracena, un vino con 14 gradi, un pochino dolce, però lo puoi bere anche con tutto, con il pescato anche, se creen. Amici, salut a tutti, questa è la tradizione italiana, amici. Questa è la vera Italia, qui con le nostre signori, facendo il vino, qui salutano, ciao. Ciao a tutti. Qui il duegno della cantina viola, e le signori facendo il moscato, e io tomandolo. Buonissimo. Super buono, amici, dolce, però molti aromi in questo vaso di vino. Qui in la descrizione, amici, van a incontrare il nome della pagina, Cantina Viola. così che la possono visitare anche. E potete trovare questo vino, il moscato di Saracena, amici, in le migliori tiendali quando vengono qui in Italia. E qui la signora. E qui la signora. Per vedere quando vengono. Ah sì, si lo potete vedere. Qui sta il vaso. Amici, molte grazie, perché sempre stanno con noi, in diretta. perché il moscato di Saracena merece di essere conosciuto in tutto il mondo. È un vino molto buono e molto antico. Amici, molte grazie per essere sempre con noi. Quindi possiamo vedere la città reale italiana. Non solo le città, i vicini, la storia, ma anche la gastronomia. E qui, i miei amici, è la mia città di vino. Il moscato di Saracena. Guarda come bella è venuto qui e di mangiare con le grazie. proprio dietro a te. Super, super bello. Ciao. Salute. Ciao a tutti. Qui vedo persone sconnectate da Argentina. Colombia, Uruguay, California. Venezuela. Todo il mondo. México. Hola, México. Todo il mondo sta con noi. E se stanno listo, amici, ora vamo a vedere il centro storico di Saracena. Qui sono le uvas. La vamo a vedere. Io ora vi voglio comparten anche, amici, perché ora vamo al centro storico. Wow. E che ci sono attraverso tempo, amici, qui in Saracena. Questa è il passorio dei miei amici in Saracena. Queste ragazze, da quando erano nuove, hanno fatto questo nel settembre, hanno produttosto il moscato. Guardate, uno per uno, hanno scelto le grazie, e poi hanno aggiunto i più fratelli e i più fratelli di grazie, poi hanno mixato le grazie con le mani. Puoi far vedere quando lo faccio con le mani? Guardate come si fa, hanno scelto le grazie con le mani. Guardate, e poi da qui si sta qui. Questo è il moscato, e poi il moscato di Saracena sarà mixato con altri due tipi di grazie, la guarnaccia e la malvasia. Grazie, Sita Matteo, per 100 stelle. Questo è un vino molto buono. È un prodotto di mani lentamente, un prodotto di organizzazione di mani lentamente. molto buono. Quindi, se siete pronti, miei fratelli, possiamo andare nel centro di città, la vecchia città, perché nella vecchia città è molto buono. Questa è un paese molto vecchia città, siamo vicino a Pollino, e guardate, siamo in Pollino, e questa è la mappa dove siamo. Siamo sulla scuola di Calabria, e qui c'è Basilicata. e questa è la cantina Viola dove hanno i vignetti. E questa è la produzione, la vecchia produzione del moscato. Quindi continuate a share, miei fratelli, perché ora dobbiamo andare nella vecchia città. La vecchia città di Saracena è molto buona, molto vecchia. e anche la visita e il panorama di Saracena. Quindi ringraziamo le ragazze, e andiamo. Amici, dìgame se stanno compattendo. Saludos a Gabriella, da Chicago. A Bicara, da Colombia. Sono collegati a tutto il mondo. Più o meno. Siete in diretta mondiale. No, a Bicara. E questo piccolo luogo di Saracena, mentre che si cenavano, la regina si chiamava Sara. Allora non sapevano che nome. Allora noi i Saraceni, che cenavano. Ah, a Saracena. Non c'erano a Gire perché, se non avevate l'inchiesa, non arrivato. O non sono arrivati i ricetti che erano già avuti. C'è una storia di Saracena. No, chi è la storia di Saracena, amico? Chi è la storia di Saracena, amico? Chi è la storia di Saracena, amico? Chi sono ravi quando Saracena? Lì qua. Quando la regina ci chiamava, Saracena. La chiamano Sara Jane, amici, perché qui c'era una regina che si chiamava Sara. No, c'era il tipo dei romanni, probabilmente, che hanno mandato in fuga l'esercito di Roberto Piscato, che ha mandato in fuga i saraceni, appunto. Si chiamava Sara perché Sara gennava, si dice. Questa è la storia, il mito. Sicuramente c'era anche questa regina, presumibilmente, che in un palone comunale c'è questa donna nuda che fugge a volte in un lenzuolo. Quindi si presume che fosse più addormentata, insomma. Però è vero che abbia fatto qualcosa. Perché qui, amici, aveva questa regina, Sara. No, la storia, amici... Sì, è un momento che non ci sia niente. Per perdere tutto il mondo non ha chiesto un saraceno, ma mette la voce in più. Sì, è il senato. Mire nel pascato. Ora le dico, amici, la storia di Saracena. Vi una regina che si chiamava Sara. E quando arrivano qui i Saraceni e i Normanni... Quando arrivano i Normanni perché chiedono il pollo, la regina Sara, che stava cenando, se escapò. E quindi è per questo che la chiedono Sara Chena. Che significa Sara cenava. Chena. Mà o meno. Ese è una delle storie. E qui la signora dice che quando stava cenando e arrivano, lo normale non stava anche in borracha. Perché qui, amici, avevano molto vino. Ese vino buono. Tava molto moscato perché il moscato è super buono. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Amici, puoi dire grazie a queste signore. Che sono molto, molto, molto gentili. E molto, molto, molto interessanti. E facendo questo lavoro con molta dedizione, molta passione. Da moltissimi anni. e da moltissimi anni. Amici amici, possiamo dire grazie a queste donne, a queste donne qui, che hanno fatto questo lavoro durante molti, molti anni. E lo facendo con molta passione. Lo facendo durante molti anni. Lo producono il moscato di Sara Chena. È un prodotto di alimentazione lentamente. Una produzione vecchia. è un prodotto di Sara Chena. È un prodotto di Sara Chena. quindi possiamo fare un tour, anche per la città di Sara Chena. È un prodotto molto, molto vecchio. E questa tecnologia di fare il moscato di Sara Chena è molto vecchio. è stato presentato nel libro Vaticano da più di 600 anni. Qui dal Canada vi ringraziano. Dall'Argentina vi ringraziano. No, siete in diretta. Vi stanno guardando ora. No, magari sono a casa o al lavoro o in ufficio. E stanno guardando. Vi saluto. Mira questa signora. Quanta, quanta dedizione e quanta passione che le ponen a fare questo lavoro. È un moscato di Sara Chena, amigos. Un moscato di Sara Chena. Acuérdanselo. Perché è molto buono. E qui è come lo producono. Manualmente e con questa tecnica. super super antigua. Grazie mille, Laura. E ci vediamo. Ciao. Ciao. Saludiamo le signori, che qui stanno lavorando da questa mattina. Ciao. 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 Saludiamo. E qui è dove producono il vino. Questo lo recogen in settembre, lo ponen qui nel Torquio, però oggi non sta attivo. Perché oggi sta nascendo il moscato, che è questa uva, che si secò e ora lo stanno procesando. E miren che linda, amici, che linda è Italia, che linda è. Sono le tradizioni italiane. Miren in questa cantina qui, è dove producono il moscato di Saracena. Un fine antico producono solo 4.000 bottiglie al giorno. Le producono solo 4.000 bottiglie per anno. 4.000 bottiglie all'anno. La posso lasciare qui? La macchina la prendo dopo o ti ha fastidio? Se vogliamo metterla in modo da... Vai, poi ci vediamo in centro, ok? Questa la bevete voi con calma, magari con il frattempo, potete assaggiarla. Sì, grazie. Bevi la fresca, non metterla mai in frigo, ma continui con la tetta. Sì, vado fino a giù, sono ancora. Sì, allora... Se non la metto più avanti. Eh... Mettila qui, terra. La puoi parcheggiare qui. Sì, se non... Purtroppo c'è questa macchina di qua che deve uscire. No, no, mi fanno qui. Amigos, ora stiamo in Saracena e le voglio mostrare il centro storico di Saracena. Come vuoi, se sei impegnato vado io. Non ti voglio... Io lo faccio con piacere, ma ripeto, non voglio essere... No, no, no. L'impadente. No, no, no. Vieni, qui stiamo entrando nel centro storico. Qui c'è il duegno della cantina che ci mostrò il moscato di Saracena. E questo è il centro storico. Ora lo camminiamo perché è molto bello. Compartiamo, amici, compartiamo. Ti è piaciuto comunque la produzione? Ma lo vedi dal numero delle visualizzazioni? Sì, c'erano 700 persone quelle là. Questa è Piazza 20 Settembre, la piazza principale. Questa è la piazza principale di Saracena. E ora camminiamo nel centro. Le voglio dare una volta, amici, nel centro storico di Saracena. Questo è un paese molto antico, dove produce il vino. Qui è in Calabria. Vieni che panorama che hai qui, amico. Questo è un punto panoramico. Ora se lo voglio mostrare. Purtroppo oggi c'è forse del mare. Ah, Sibari c'è di là. Qui al finale hai il mare, però non si vede. Hai un pochino di nuve. Vieni qui. Questo è un po' storico che il nostro vedrà che ci sono tante volte, i vutanti, tanti piccoli passaggi che sono tipici proprio dell'era... Non si è ripreso. Vieni, amici, ora ora entriamo qui nel centro storico di Saracena. È un paese di 4.000 abitanti, 4.600 abitanti. È un paese di 600 metri nel livello del mare, nel livello del mare. Dicami se stanno connecato a travesse, perché ora ora entriamo in questo pueblito di Saracena. E qui, come puoi vedere, amici, prodotti tipici, moscato e olio. Quindi andiamo, amici, amici, dentro questa bellissima tante di Saracena. Guardate qui, è l'entrante. Come potete capire, la cantea è solo nel centro della tante. E ora andiamo all'ultima tante. Qui c'è il comune, qui c'è la città. E ora inizia l'ultima tante. L'ultima tante. L'ultima tante. L'ultima tante. E' una rappresentazione del pueblito di Saracena. E qui è il pueblito super tranquillo. E siamo nel Polino, amici. Al final di Calabria, cerca di Basilicata. Qui è nel centro storico di Saracena. Qui c'è la piazza, la piazza San Lio. Perché San Leone è il patrono di Saracena. San Leone, amici, è il patrono di Saracena, di questo pueblio. E qui è la plazza. Il 19 febbraio è la festa molto, perché quella dovresti riprendere. È fantastica. Però... Amici, siamo arrivati al 19 febbraio. Perché è la festa patronale. E qui si entra in chiesa con le crisi armoniche. E qui si fanno... 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 C'è il duagno della cantina Viola. E qui si fanno molto bene la piazza, miei amici. E qui si fanno molto bene la tiazza. Questo portale è molto ampio. C'è linda questa porta. È molto antica. Qui è nel centro... Mi amici. Mi amici sono點 immigranti di Massasciusetto. Ci sono i emigranti da Massasciusetto? Ci donano queste porte. O... De Conecchi. hanno dato questa donazione quindi dovremmo sapere se c'è qualcuno da Massachusetts, Connecticut la campana, amici la campana wow e abbiamo molto suerte, amici qui sta San Leone, il patrono e guarda che linda e che antico, amici, questo organo del 2006 ma è più antico del 2006 ah, questo è del siglo XVII del XVII secolo, amici questa è la città di San Leone qui in Saracena e guarda le piscine con le piscine super bello potete immagini qui in una piccola città come Saracena ha una bellissima iglesia qui in Saracena un pobolito un pobolito pequeñito qui nel Polino qui in Saracena qui in Saracena ha una iglesia qui in Saracena qui in Saracena che tutta questa pandemia si accaba e che pronto tutto va a regressare come antes che tutto il mondo regressa lo bello che era prima 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 che il mondo sarà bellissimo come era prima prima e non più pandemia e che possiamo iniziare via e che come dice Cela i Seli va a liberare la umanità del virus è lo che chiederemo noi dobbiamo per tutti e specialmente per i figli i figli devono un mondo migliore per sicuro e devono divertire la vita come abbiamo fatto quindi Amen che linda questa iglesia di San Leone la chiesa di San Leone 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 che è lindo che sono lindate le calles che lindate le calles antiche di San Leone di San Leone miren qui questi sono tipici dell'architettura bizantina come anche le scale esterne ora lascia stare sull'alimentare questo amico è un pobo che ha origine bizantino e questi butanti sono tipici di questa architettura questi passaggi e queste escalere qui sono tipici di San Leone di San Leone dove andiamo di qua? se vuoi ti accompagni sì 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 due minuti sì sì amico teniamo che desiderle grazie al duegno della cantina viola perché no si sta accompagnando a chi in questo tour ha detto che è un piacere siamo molto fortunati oggi amici di essere con qualcuno dalla città che ci mostrava questo bellissimo di Saracena e grazie a tutti perché ci mostrava come producono il moscato di Saracena il moscato di Saracena il moscato di Saracena amico prodotto molto molto bello il moscato lo puoi bere anche comunque vino con la carne pesce dolce diciamo che è più indicato con i dolci e anche con i formaggi molto buoni tipo il gorgonzolo con il borinato con il moscato di Saracena lo puoi bere anche molto bene con il con il con il queso con i dolci claro però il queso è uno dei migliori, miren che lindo, questo passaggio è qui, con la frutta, con las fresas, con il melone, cioccolata, grazie a Amelia Brito per 100 stars, grazie, miren che lindo, e qui amico se le queria mostrare, miren in questo pubblico super tranquillo dove c'è poca persona, anche c'è una tienda di sabato, qui venden sabato, che lindo questo pubblico, salut a Puerto Rico, siamo nella piazza antica di Saracena, qui era il vecchio municipio prima la vita era tutto perfetto, amici preparati perché siamo arrivati ora in la plazza più antica di Saracena, tutta la vita passava qui, in questa plazza che ora se la voglia mostrare, siguen compartendo, amici, continuate a share, siamo arrivati all'ultimo square di Saracena, guardate le fonte qui, ma questa si può bere, è potabile, qui c'è acqua potabile, che puoi bere, senza problemi, llega direttamente da la sorgente, e quindi la voglio bere, super fresca, super super fresca, mire che linda la casa, amici, saluto Lima a Perù, che è linda, che suerte teniamo, amici, mire che dia linda qui oggi in Calabria, quasi 30 gradi, quasi 30 gradi, quasi 30 gradi in Calabria, quasi 30 gradi in Calabria, continuate a share, amici, e come sempre puoi seguirci su Instagram, ConoscendoItalia.com, YouTube, ah qui c'è un altro buttaro, faccio vedere, ah qui c'è un altro buttaro, faccio vedere, di Viola, we showed how to make the Moscato di Saracena, mire che linda la casa, amici, Moscato di Saracena, is a Slow Food Wine, and here we are having a tour in this beautiful, beautiful town, che linda, amici, che linda, mire la signora, come sono lindas, la signora, abbiamo una buona quina cheduca, buonassero, 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 grazie, mire la signora, amici, che si pone nel balcone, a mirar los estraneeros, grazie a te per le star, Milena, che ma come bella sarebbe Sara Chena, e abbiamo un guido speciale oggi con noi, tanto non penso sia così grande vero? miren qui, queste sono le casas antiguo di Saracena e miren qui hanno fatto vino, qui hanno fatto del vino forse miren qui, amici, potete vedere qui producono vino fino a pochi giorni in queste casas è dove lo producono, come vi mostrei prima in Cantina Viola produce vino, proprio nel centro storico di Saracena ogni persona, amici, produce vino, e mire che lindo il panorama da qui mire che bonito, che bonito, amici, e qui l'iglesia, come vi ho detto e vi ho detto, i miei amici, questa è una città di origine di Byzantina e guarda la città in che senso è la parte dove eravamo su? amici, questa è la parte nuova che è il duelo, qui non le gustano le persone che vivono qui e qui dove siamo ora è la parte viella, questa è la iglesia che ora se la voglio mostrare Patricio, sembra di Belcastro, Santa Maria del Gamio questa è la iglesia di Santa Maria del Gamio matrimonio, boda wow, mire che linda qui, amici, che linda, è una delle casas più antiche di Saracena siguen compartiendo, amici, ora le voglio mostrare la iglesia sta super lindo, e il panorama che è lindo diciamo, i miei amici, se ti piace questo live da Saracena abbiamo iniziato a mostrarvi come si fa il moscato di Saracena con queste tre vecchie donne che hanno fatto il moscato da quando erano molto piccoli e ora voglio mostrare il centro, la vecchia di Saracena guarda quanto bella è qui è pieno, pieno di persone e magari hai alcuni amici che vengono da questa città perché queste sono le città nel sud dell'Italia dove c'era molta immigrazione a altri paesi come Canada, Argentina, Venezuela quindi questa è Saracena che è lindo che è lindo che è linda, amici grazie a Gine Alianza per 100 estrellas per 100 stagioni grazie a tutti grazie a tutti guarda che è bonito wow amici, dìgami se stanno compartendo questo live miei amici ho mostrato come hanno fatto il moscato di Saracena quindi quando abbiamo finito il live potete vedere il video live dal principio e vedrete come hanno fatto il moscato di Saracena guarda le casas attravo di me potete immaginare i miei amici che l'Italia ha tantissime 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 e molto bello guarda via freddo vamo a vedere via freddo wow miren qui vivono 3.000 3.000 persone vivono qui 3.000 persone vivono qui qui in Saracena dove producono il migliore moscato vino che è un vino lontano è un prodotto lontano lontano molto bello grazie Franca per 200 stelle Miracle Lindo e guardate qui miei amici stanno aspettando per noi guardate queste alte persone hanno piuttosto la vita in Saracena e miren qui la lambrata che lindo qui è come puoi dar la volta qui in Saracena amici che lindo qui hai una e qui hai la otra qui hai la otra Tengo Antonietta por compartir muchas gracias gracias a Patricia Liguori por compartir miren la lambretta amigos a Susana Urquiaga por compartir miren aquí la signora y el señor juntos desde siempre aquí en Saracena Buonasera siamo in diretta televisione miren la iglesia miren es una lastima che sta serrada pero miren che lindo sono los flores tambien que lindo amigos super super lindo gracias Tracy por 100 star Franca por 200 star y Luis por 100 star Moscato di Saracena 1000 look how beautiful are the streets in Saracena my friends oh la città del messico oklahoma miren como son lindas las calles vamos a camminar aquí wow wow amigos miren miren este balcón que lindo este balcón amigos que lindo este balcón aquí significa que hay vida que hay gente chi quiere desfrutar animar el pueblo look how beautiful is my friends the town of Saracena it's going down here but it's super super nice look here people are living 4 000 people my friends are living in Saracena and this is a special period of the year because they produce the Moscato di Saracena miren que lindo este balcón and look at the balconies so beautiful they are people are taking care of this small town in Calabria wow qué lindo qué lindo qué lindo estamos también cerca de otro pueblo muy grande que se llama Castro Villari eh ah sí amigos estos señores son los dueños del balcón que le mostré antes miren qué lindos señores el señor y la señora tienen este balcón es su la lambretta no una una otra ah sí look how beautiful is my friends the lambretta people they go around this town with lambretta this anche question people better and here my friends the water you can just drink because it's drinkable everywhere look super fresh super fresh and super clean but this church it's very nice as I told you this town has a Byzantine origin and you can notice also by the roof so particular this is the church of Santa Maria del Gamio Gamio means from Greek wedding and we will come back here my friends on the 19th of February because 19th of February they do a big big celebration inside the church they go inside the church the 19th of February and they will sing and make a big celebration inside the church Buonasera Grazia Arridaci we say hello to the people here in Saracena goodbye saludos a los señores aquí in Saracena aquí esta Cantina Viola aquí también amigos hay un museo y una biblioteca Palazzo Marchi es uno de los Mastro Marchi uno de los palacios más antiguo this is one of the most the oldest building here in Saracena this son portafiori look this is how they make the flowers but now of course and look also here this is how they make the flowers idea in Saracena it was made by some kids some young people that they are living here it's a nice idea I must say and well he he has Palazzo Marchi this is as well from the 16 century wow my friends my friends we are in Saracena what a beautiful town we have in Italy we are in the nord of Calabria tomorrow my friends I will be live again from one of the most of the oldest city of south of Italy let's see if you know where I will go it is in Basilicata so do you know where I will go tomorrow mire che lindo qui amigos i fichi ci sono ancora mire n qui i los figos st amigos e otra cosa tipica de calabria de cosenza i fichi le crocette i crucette le crocette amigos son che linda che linda saracena e stamos camminando amigos in el pasado amigos estamos caminando en el pasado thank you mateo yes very nice saracena yes 17 century monica 16 century sorry miren 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 hacen que linda esta casa tambien aqui como pueden ver amigos pueden ir caminando en el centro mater 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 chiamen mater miren miren chiamen yes tomorrow we will be mater for all my friends from conoscendo italia tomorrow tomorrow we will show you mater so be ready for tomorrow look now it's a big problem big problem because we have to go up oh my god we have to go up again miren miren exacto augusta por favor vamos augusta tambien cuando voy en sicilia por seguro voy miren wow vamos subiendo pero miren las casas look at the houses my friends they are very very nice very old and the town itself it's very nice and very typical and particular wow oh dove si si c'è un problema con lo schermo non si vede niente my friends I'm very sorry I have a problem on the screen it's black I cannot see anything I hope I'm still alive because it's black in las casas aquí vivian amigos oh you I'm losing the 4 santa maria santa maria grotto amica so here is iglesia and below this iglesia are grottas so below this church my friends there are some caves and it's also a church here in the center of saracena very nice and look people are living also there amigos we are on live we are on tour from saracena and now we go back to the main church to the main square sorry and look at the entrance those are the entrances and look how beautiful are the houses i love such old towns old villages which they are typical and original towns and look this is the stairs that i was telling to you before this is a tradition from saracena to make the stairs just outside and look here they are putting they're making some some look how beautiful it's this house here and the people my friends they are doing the storage of the wood for the via fiorentini and look here my friends they are making the storage for the winter look super nice saracena miren aquí esta casa también super linda con el símbolo aquí arriba amigos perdón pero no sé por qué tengo la pantalla toda negra y no puedo leer bien los comentarios o si me están enviando estrellas pero de toda manera siempre gracias a todos miren aquí que lindo aquí via guantai vamos a ver via guantai si puede andar de aquí mira que linda estas flores sorry my friends but they have the screen black i don't know why so i cannot read the comments i'm very sorry but look at the flowers here y es el centro las casas miren que linda esta casa y aquí amigos vamos a ver que hay por aquí miren esas son las calles que van a encontrar en saracena keep sharing my friends because we are in saracena look at the peppers i want to show you the peppers posso vedere i peperoncini i peperoncini li posso far vedere miren amigos aquí hay lo peperoncino no vabbè esas son la tradición tipica eh si lo fresco bello miren que linda estas flores amigos aquí la señora dice si queremos entrar en la casa porque nos quiere mostrar como es la casa gracias señor wow miren que linda esta casa amigos esta es una casa antigua pero miren que lindas las escaleras aquí son tipica de la tradición de saracena wow miren que otra señora viejita miren esta timida she's shy my friends buenos días she said that she's shy aquí vivió uno de los mil de garibaldi 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 saracena amigos también una ciudad garibaldina garibaldi es el que unificó la italia y en sud america está bien conocido en uruguay montevideo andato e montevideo seguro conoscen garibaldi 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 el héroe de los dos montes como también simón bolívar en venezuela seguro lo conocen miren amigos wow que lastima que no puedo leer los comentarios amigos para ver que están escribiendo pero miren que linda saracena super nice saracena garibaldi y esto es una ciudad de garibaldi también porque aquí las personas que participan en la unificación de la italia con garibaldi vienen de saracena si mirad mis amigos podemos ir de aquí o de aquí ambos son fantásticos ambos son fantásticos y llenas de historia y mirad la tercera que una buena terraza que una buena terraza que una buena tierra cantina viola amigos nos está acompañando aquí en saracena y el moscato amigos tienen que probarlo porque es un dulce muy muy bueno dulce es un vino perdón muy bueno y dulce miren aquí estos no estos no lo han recolto no esto es un vino pero mira amigos esto es una vino que la pusieron aquí en la casa que linda aquí amigos son estos son los pasos que son tipicas de saracena que van a entrar en la casa y aquí san leone san leone es el patrón de saracena y esto es otra área otra parte de saracena hana look how beautiful it is wow wow my friends very very nice miren aquí Filanda wow guarda bello qua miren qui è questo passaggio che al final arriva in questo balcone super panoramico che lindo è questo passaggio miren qui la signora buonasera posso andare a andare? miren qui miren dove possiamo andare questi sono i passaggi che ci sono qui qui in Saracena miren che lindo e al final di questo passaggio e tutto il balcone in la valle questo è uno dei tonnelli che abbiamo qui in Saracena molto piccoli e spettati e poi vengono con questa bella vista sul valle miei amici è molto bella Saracena molto molto bella è un labirinto ma molto bello da camminare quindi torniamo a tornare alla principale con le fonte torniamo a tornare alla principale con le fonte quindi ottenere un po' di acqua quindi si no possiamo rientrare wow tu abiti a cosenza? no abiti a cosenza tu abiti a cosenza tu abiti a cosenza ah guarda le porte in vento guarda qui sono le fonte ho bisogno bisogno di più di acqua molto bello che puoi mangiare dove voglio qui quindi torniamo alla principale e spero che avete piaciuto questo bella bella tour di Sarajena guarda quanto bella è super bella guarda questa è l'entranzo per questa casa andiamo a dire che non ci siamo andati quindi andiamo qui è panoramico da qua no guarda 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 le diverse strade wow bello guarda le diverse strade che abbiamo qui in Sarajena molto bella e guarda la piazza qui è come il secondo piazza della casa molto bella grazie molto miei amici per seguire con Conoscendo Italia per seguire noi durante le nostre vidi e sui video su nostra pagina per sending stars ogni volta che enviaste stars supporti la nostra pagina e le nostre tour in Italia e le nostre lives tomorrow my friends I will take you in Matera tomorrow Matera but today let's enjoy Sarajena Sarajena very very nice very very nice thank you thank you my friends because always send stars share share comment like and thank you thank you my friends look here how beautiful it is wow look here this very old wall and then you go inside to this small square where people are living and look at the peppers here look at the peppers hanging just next to the window this is a very typical Calabrian tradition wow very nice and you can imagine here we're living with different families many families all together they were enjoying their life Sarah Jenna as always my friends put like and follow click on like and follow on the page of Conoscendo Italia so that every time we are on live Facebook will advise you and we go live every week in this period maybe two times per week but we try to show to show to you as much as possible keep sharing my friends because we are still on live but here there's a balcony there's a balcony there's a Luca the cats, very happy cats around. Gattos, sono molto felici qui, amici, in Saracena. Wow, wow, miren questa casa, qui sto, amici, non posso vedere bene la pantalla, che lastima. E qui è il borgo di Saracena, qui è una altra fontana, bello però. Viene che l'India è a casa con la planta, buonasera, viene che l'India è questa planta, sto facendo un video alla pianta che è bellissima, quanti anni ha? È vecchia, ah no? Viene che è la duegna? Ah, vent'anni, venti anni, venti anni, amici, di questa planta, mire che bonita. Buonasera. Saracena, live, per tutti i miei amici da Conoscendo Italia. E qui, ora stiamo a través, in la plaza, plaza San Leonardo, San Leone, perdon, qui in Saracena. Amici, spero che le gustò la diretta, ponle siguen a la pagina, ponle me gusta, e e ci vediamo domani. Molte, 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 molte grazie per tutti i miei amici. grazie a tutti i miei amici, per tutti i miei amici che ti sentite, per seguire i nostri live, i nostri tour, in Saracena. E vedremo domani, miei amici, da Matera. i miei amici, domani saranno in Matera. Salute a tutti. Ciao a tutti. Diciamo bene anche alla Cantine Viola. E grazie per mostrare il moscato di Saracena. Grazie mille, per tutto. Grazie. Grazie molto, grazie. E vedremo domani. Ciao ciao.